Adesso collegamento con la redazione di viaggidelbenessere.com per una nuova puntata di Viaggiando Viaggiando, Viaggiando Bentrovati all'appuntamento con Viaggiando e siamo prontissimi ad accogliere Maria Luisa Duso che oggi sappiamo già ci parlerà di montagna ma sappiamo anche di quale montagna e cioè Madonna del Campiglio, giusto? Giustissimo, buongiorno, ben ritrovati, sono tutta imbacuccata vestita di bianco perché ho voglia di godermi questi paesaggi e questi panorami meravigliosi Allora vi parlo di Madonna di Campiglio perché c'è un locale che si chiama Garni del Sogno, un bel quattro stelle che fa di tutto per realizzare i nostri sogni e per proporci delle cose molto accattivanti a prezzi molto molto vantaggiosi Ecco questa è una cosa che ci sta sempre bene Coccole, benessere e natura, un po' questo non il binomio perché sono tre cose ma queste sono un po' le attrazioni che offre il Garni del Sogno e in particolare delle promozioni che riguardano il mese di aprile quindi potete pianificarle con calma e valutare se possono interessarvi Partiamo per esempio da un buono sconto di 100 euro per il centro benessere se sceglierete il pacchetto Oasi Tour Emsky Pass Un periodo vicino alla Pasqua quindi una stagione invernale che si prolunga un pochino perché la Pasqua è più bassa rispetto al solito Certo E poi ci sono delle strutture che approfittando un po' di questa vacanza prolungata permettono di trascorrere una vacanza in montagna anche in pieno aprile Fra questo è appunto l'hotel Garni del Sogno che si trova nel centro di Madonna di Campiglia Nello stesso tempo ha la fortuna di essere anche a pochi passi dagli impianti di risalita dello spinale E promette una vacanza all'insegna del comfort esclusivo e mette insieme sport, relax, shopping, divertimento ad un prezzo che è assolutamente irresistibile Che cosa vi offre questa struttura? Beh la bellezza di 18 eleganti suite Un centro benessere con trattamenti all'avanguardia, una vacanza completamente personalizzabile Questi sono un po' i punti di forza di questa struttura Certo Che si trova in un'ottima posizione, che garantisce un eccellente servizio E che è diventata quindi un gioiello dell'offerta alberghiera di Campiglio E questo è sicuramente un primo valido motivo per pensare di inserirla nelle idee per le nostre vacanze Certo Al momento della prenotazione o all'arrivo in hotel davanti a un aperitivo Si può quindi studiare con il titolare Domenico Schiavon la propria vacanza ideale Secondo le proprie esigenze e le offerte del posto E poi c'è questa offerta da prendere al volo Perché fino al 23 di aprile il Garnier propone un'oasitura in ski pass Questo pacchetto che prevede un soggiorno di 7 notti in suite Con prima colazione a buffet, ski pass di 6 giorni Un tour guidato con gli sci o con le ciaspole Un buono di 100 euro da spendere nel centro benessere dell'oasi di Sogno E ciliegina sulla torta, una bottiglia di Ferrari con le fragoli in camera come benvenuto Mamma mia! Il costo? Beh, pensa un po' 565 euro a persona anziché 1300 Beh, credo che tenendo conto che c'è dentro anche un buono da 100 euro Santo cielo, voglio dire È davvero irresistibile È davvero irresistibile Perché poi penso che il mese di aprile sia davvero uno dei mesi più belli Per andare in posti del genere Perché lì cominciamo già ad avere un clima di un gradevole incredibile E quindi insomma, sì, non è un'offerta che hanno fatto magari in uno di quei mesi impensabili Impensabili Esatto, esatto, esatto Beh, complimenti davvero Che poi insomma lì ci sono dei paesaggi, delle cose davvero straordinarie Devo dire Assolutamente sì, concordo C'è neanche un altro pacchetto che vale la pena considerare Perché ci sono le quattro notti Sì Con un buono di 70 euro Il costo è di 340 euro Beh, quindi Ma c'è anche l'opzione sci e tintarella Perché ad aprile c'è anche la possibilità proprio di sciare e di abbronzarsi Quindi una stagione doppiamente allettante Perché le giornate sono più lunghe, sono più soleggiate C'è più tempo a disposizione da dedicare allo sport E c'è appunto meno gente rispetto agli altri periodi Quindi la possibilità di avere anche un servizio migliore Per persone che ci stanno accanto La possibilità di catturare l'energia del sole E fermarla sulla nostra pelle Per diventare, avere quell'aspetto più sano che fa tanto bene Sì, è vero E c'è anche il pacchetto Oasi Tour e Ski Pass Con attività sulla neve per sei giorni e quant'altro E anche questo molto, molto, molto vantaggioso Perché siamo più o meno sulla falsariga delle altre proposte Quindi direi un'occasione da prendere veramente al volo Se volete farvi un'idea di quello che vi offre questa località Io vi suggerisco di curiosare il sito Che è www.garnidelsogno.it E poi ovviamente c'è lo shopping Lo shopping e la gastronomia Perché se amate la vita mondana Sicuramente il centro di Madonna di Calpiglio Vi offre mille opportunità di shopping e divertimento La zona pedonale con le piazzette I negozi di ottimo livello Gli accoglienti luoghi per Prima di praticare lo sci o sulle piste Un contesto ideale per un tuffo nella mondanità E poi le botteghe artigiane con caratteristici oggetti in legno I mobili, le stuffe, gli oggetti d'arte I gioielli realizzati con la carta pesta E poi la gastronomia Che è altrettanto ricca e stuzzicante Questa è la parola giusta Con salame all'aglio, soppressa dopo Il formaggio tipico del luogo Fatto con il latte delle mucche di pregiata razza rendena E poi la polenta ai funghi e la selvaggina Di tutto ovviamente accompagnato dai vini del Trentino Grappe aromatizzate Realizzate con frutti selvatici e piante d'alta quota Devo dire che anche l'alimentazione in montagna Ha il suo bel perché, come si dice Insomma, adesso mangiarsi una bella fetta di salame Non ci starebbe neanche male, devo dire Direi proprio Il salame secondo me è quello che te ha tutte le ore Hai capito? Hai noi Da quando ti svegli a prima di dormire va sempre bene Eh, purtroppo, hai noi, hai ragione Maria Luisa Hai proprio ragione Va bene È tutto per quel che riguarda Madonna di Campiglio Possiamo aggiungere qualcos'altro? Ma io direi che possiamo fermarci qui Vi ricordo ancora il sito Per poter sognare ancora di più Che è www.garnidelsogno.it Ecco che giustamente insomma non poteva che chiamarsi così Questo posto Va bene Noi ti ringraziamo E domani finiremo la nostra settimana Con un altro viaggio decisamente sicuramente interessante Quindi ti aspettiamo domani Assolutamente sì, a domani Grazie, ciao Maria Luisa Ciao Viaggiando vi dà appuntamento alla prossima puntata Se volete riascoltare i nostri servizi Andate sul sito viaggidelbenessere.com